Eccoci qui oggi a Follì, al Palafiera, dove si radunano tutti i nostri volontari nel centro di smistamento, nel Lab, da cui ogni giorno partono i soccorti per le zone colpite da questa calamità, da questa alluvione. Sono 119 volontari ANPAS impegnati tutti i giorni in 15 cantieri dove cercano di risolvere le criticità che si sono sviluppate. A loro va un doveroso ringraziamento per tutto quello che fanno tutti i giorni, non solo nella loro vita associativa, ma anche in questi momenti in cui si ritrovano sempre più vicini per cercare di aiutare questo Paese che spesso, purtroppo, va in difficoltà.